Ho visto un video di un tale di nome Karlberg che mi ha ispirato a fare questo circuito e quindi adesso lo devo solo battere E niente, ho sbagliato il tasto, vabbè convalida Sì, tecnicamente ci devo aggiungere dei pezzi intorno, però intanto voglio finire sta cosa E con esse salvo replay, quindi Ups, salti di qua, salti di su Destra Si vede che muovo il dito, sì E qua sto per, mi serve per premere S Questo è l'orario, no Ah, l'orario lo posso mettere là, esatto E qua volevo che si vedesse La posso guidare anche così, però, ok, vabbè E comincio S è il mio tasto per salvare il replay Sì, francamente forse lo potrei fare con il joypad Perché ha sbattuto, ha fatto kutung, vabbè 287 di velocità, nonostante la botta Qua dovresti andare alto, giù, 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 giù No, troppo dirappata credo E quindi non ce la faccio qua perché devo avere 260 Ok, ok, ce la posso fare Poi è più o meno finito Più o meno Ok Sì Ok Non ci riuscirò mai, vero? Non mi sa dire Ok Perché fa la botta? Perché ha fatto due landing bugs? Perché? Vabbè Tre Quattro E non ce l'ho fatta Ovviamente Ovviamente Ah Quattro landing bugs, ok? Grazie gioco Grazie mille Che cacchio Vabbè Hello Non so se sei più veloce a tagliare la curva Ho mancato la curva Ho mancato la curva Ok Va bene Troppo veloce Zoom Yeah Quasi quasi lo metto Ah Più in alto si vedrebbe meglio Si Guarda piano piano Sì Potrebbe funzionare S e le tre dita vabbè che partenza era oh che botta oh no troppo lento what's that start game here we go die 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 no 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 sì ok sì provaci ok più di 240 ore allora intorno a 260 ah sono due salti intorno alla stessa velocità ok l'ho costruita io la mappa però non guardavo la velocità oh oh mamma wow cacchio lo sapevo no più lento landing bags ovunque landing bags ovunque è troppo lento ok ai 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 wow cioè ha sbattuto solo la ruota dietro con quale sbattuto non si sa come non so se con la tastiera sia più difficile o più facile ok Ok. 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 razza di atterraggio era quell'automobile porca miseria dai che era giusto secondo me ci arrivo troppo veloce quindi devo rilasciare di più un acceleratore oh oh nice ok va bene lo sapevo che era troppo presto me lo sentivo nell'anima probabilmente potrei arrivare il primo coso però ok vabbè non la traiettoria migliore ma è una traiettoria wow sì mi sa potrei anche bloccare la telecamera cioè c'è modo per bloccare la telecamera interna ma francamente io non mi trovo comodo con la telecamera interna comunque semmai quando abbellisco il circuito devo bloccare pure la telecamera interna nei giri della morte vabbè lo farò lo farò un giorno lo farò non lo voglio solo finire sta cosa regarmi perché devo studiare terraggi del cacchio troppo diraffata e anche muro bene 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 non ci riuscirò mai quella curva è orribile però è divertente e non la fa nessuno adesso ho capito perché non la fa nessuno non so se un circuito in trackmania united può essere trasferito in trackmania nations forever oh well non ho freddo cioè in realtà lo dovevo controllare prima vabbè male che vado lo ripassurisco in trackmania nations forever tanto non è che ho usato blocchi particolari come ho fatto cioè neanche se ci riprovassi 3000 volte ci riuscirei a fare quella cosa lì come è possibile come vabbè che lascio l'acceleratore ok vabbè non dovevo fare le dirappate ma oramai non 17 secondi è troppo lento per il saldo ok 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 Berli nei detti C'è una malapena Sì Chance Che poi non ho capito perché il mio computer fa vedere quella barra sullo schermo C'è pallato qualcosa Sai una cosa Mi interessa che da ogni C'è quanto puoi finire Quindi fai così Esatto Quindi sei invitato a prendere la strada di sotto Vabbè proviamo così Smetti di vibrare barra nello schermo Perché esisti Che poi nel desktop non c'è C'è nel gioco Guarda Fai come vuoi computer Non dovevo rallentare così tanto Non sono comune Che ho fatto una mossa giusta Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia è un po' meglio vabbè boh ho i miei dubbi i miei forti dubbi perché dal certo momento lo riesco a fare perché non lo posso dal punto di controllo sì vabbè dubito che in italiano li chiamiamo davvero punti di controllo non so come chiamarli ma troppo lento basta devo spegnere non ho più voglia ahhh sì non lo devo curvar un po' prima ma è già ok ok Cos'era quello gioco? Cosa cacchio era? Vabbè Troppo presto La traiettoria di quella curva è Molto 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 precisa Oh 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 Ahi sì Eh sono contento che Almeno la partenza funziona sempre bene A parte questo punto Appunto Sì Sì No Perché ha fatto un landing bug Certo Giusto Ma va Primo salto è bellissimo Funziona benissimo Questo è un po' Un po' spazzatura E questo è Non va affatto così Ai 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 Eh? 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 Come? Come ha fatto a fermarsi? What? Vabbè Ok Ok No No 200 orari È troppo poco No No So Come ha fatto a fermarsi Troppo giù, troppo giù, troppo giù Quindi devi andare molto più su sulla scultura Maledizione Ok Molto più su Troppo Solo perché ho lasciato l'acceleratore 230 orari non è abbastanza Oh Slice nera God Troppo in basso Ah, sono già passati i 20 minuti Ok Vabbè Lasci l'acceleratore Ok Anche qui Un paio di volte Oh Chance Sì Pain Do you ever feel pain? Non avete idea Pain Absolute pain Cacchi Misericolato Ok Sono abbastanza Però c'è comunque Nonostante il suono di schianto Vabbè Comunque intorno ai 15 secondi Stiamo Esatto Vabbè 17 No 220 Non ce la farò mai ai 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 Hebrews aaaaaa aaa non ha ridato troppo no ok oh sick dude non c'è la parola adesso ci riuscirò da qua no, troppo basso si troppo basso qua e poi giù eccolo oh cosa è accaduto? 170 orari cosa? perché? eh? eh? oh no ah vabbè l'ho salvato no 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 yeah mmm flip 180 dov'è il flip? dov'è il 180? si gioco mi fido grazie computer per la barra che continua a fare a flashare giusto per stare ok dai no 240 non è abbastanza non ce la faccio più non credo di andiamo a imporre il limite delle 10 in quarta perché sono un bravo bimbo che vuole andare a letto presto una volta mi deve venire una volta e me ne vado ha sbattuto cosa? stunk e ha rallentato cosa? come? bonk ai 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 no troppo alto cioè troppo basso se vai troppo basso devi correggere di più la curva non ha senso ma è vero se correggi di più la curva non è abbastanza velocità e poi devi atterrare circa leggermente a destra del centro della rampa va bene vabbè vabbè bravo vento ahh pain I feel the pain. Do you ever feel the pain? No comments Non ho mai... Ho preso quel checkpoint sopra a meno di 15 secondi e poi si è impiantato sulla rampa. Wow, non accadrà mai più Ok Spin 360, vero? Vero? Concordo. Un 360. 360 no spot. Già. Però questo è un gioco di corsa e non mi spara tutto. Non ho mai capito di spara tutto Ah, ah, ah. Mmm, good. Yes No, non ho mai capito di spara tutto. Oddio, ho appena realizzato una cosa. Io originariamente avevo fatto quella rampa... Invece di fare l'atterraggio del giro della morte con le rampe dritte, l'avevo fatto con le piattaforme con un buco al centro. No, non fate, non fate. È una cosa orribile. Cioè, già difficile tutto sta imbaradando. E poi dovevi pure andare preciso. Lì ed era troppo, 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 troppo lento credo. Mmm, beh, forse no. Forse no. Ho saltato troppo? Ho saltato troppo? Io... Cosa, cosa... Perché ho creato questa mostro di satana? Perché? Di quale parte del mio cervello ha pensato che questa fosse una buona? Palesemente è fattibile. E ce la riuscirò a fare. Però... Boh. Non è... Non è molto bello. Non è molto bello. Vabbè. Non è molto bello, no. Solo l'inizio, questo saltino qua e il successivo sono decenti. Il resto è... Bene. Eeeh. Troppo su bianco. Mmm, l'ha salvato. Allora, quella è la traiettoria che prenderei se fossi... Se partissi dal checkpoint. Ma non parto dal checkpoint punto di controllo. Quindi, come devo fare? Non lo so. Devo cruvare, però, a un certo punto. Eeeh. 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 no, devo atterrare a destra del centro, perché se atterro al centro esco fuori per viare la velocità che ho su, quindi vabbè, forse è facile sono le frazioni di secondo amico, le frazioni di secondo oh eccolo, terrato male wow, wow, wow 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 no, no, non mi è piaciuto affatto, questo gioco è pieno di bug per l'altro, quindi vabbè, comunque facciamo stare qui ok eppela sì non se se atterraggio di far vabbè sono già le 10 e 15 vado a colpa ese tre tentativi contando questo tre tentativi alla curva alla curva più basso no cosa è successo tre tentativi che raggiungono la curva pilastra dai tentativi che raggiungono la curva pilastra tentativi che raggiungono la curva pilastra troppo presto ok tentativi che raggiungono la curva pilastra ok un po' brutta la traiettoria no 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 non mi viene neanche la partenza adesso troppo stango questo 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 mh mh voglio un atterraggio buono sulla dirt non ci riuscivamo la polenta un giorno ce la faranno oggi non è quel giorno almeno che no ok probabilmente potrei eliminare il salto con la bolla ma non lo voglio fare il bottone nero lo posso eliminare ma non lo voglio fare no no dai no troppo lento devi atterrare cioè devi atterrare nella stessa direzione in cui sta andando il tuo vettore velocità perché se atterri poco poco con cioè inderapata l'auto perde velocità in un attimo cioè è orribile cacchio probabilmente se ci mettessi solo un wallride qua funzionerebbe molto molto meglio ma io voglio la scultura se ci metto il muro normale di trackmania funziona benissimo anzi forse sempre troppo a velocità ha funzionato quel salto what in quale mondo quello è un salto che funziona ok ovviamente deve atterrare male figurati se ti fa un atterrare buono john maya gioco però no niente 250 non è abbastanza devi arrivare a 260 ah mamma santa perché ci ho messo un salto lì dietro nessuno lo sa bello perché succede sempre qualcosa quando fai il giro già già succede che ti schianti contro un muro cacchio questo è l'universo che mi sta dicendo smetti davvero 3 tentativi 3 tentativi ok 3 tentativi ancora 2 tentativi l'universo ti sta dicendo smettila no ho beccato il bianco funzionato cos'è 2 tentativi quindi no 3 tentativi 2 tentativi voi non lo sono raccontato male 3 tentativi 3 tentativi non lo sono raccontato male non lo sono raccontato male non lo sono raccontato male che rottura dai la volevo finire oggi non ci voglio pensare da mai un po' le vittore è un po' le vittore come un po' le chiamo il po' le vittore si potrei levare il primo parabolica non lo farò valedizione universo no curvo troppo prima ahhh curvo troppo prima forse ma certo basta curvare dopo qua oh troppo dopo beh 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 funziona però curva dopo ah ok beh 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 mi porterò questa conoscenza domani questa no leggerla la finalizzare domani si direi si Ci siamo Amico, non devo tagliare così tanto la cura Ok Si Oh Cacchio Mi sta per diventare Aia, mi sta formicolando la mano, perché? La sinistra, non la destra Cosa ho già fatto? Mi ho messo male sul tavolo, forse 7,34 15 Sotto 17 Mmm, derapato troppo Sì Devo prendere un po' più Un po' più larga Ma è difficilissimo perché ti viene da curvare per prepararti Invece no Devi prendere più largo Niente, se becchi il bianco Se becchi il bianco no Devi guardare il centro di questo C'è una piccola riga al centro Niente, ho lasciato l'acceleratore Comunque è troppo poco Troppo veloce C'è una frazione di secondo in cui inizi a curvare Quasi al massimo della velocità la traiettoria giusta E non l'ho ancora preso Dopo, boh, almeno Centinaio di tentativi saranno Vabbè No, un centinaio forse non ha Una cinquantina di affatti Di sicuro Secondo me forse sono anche un centinaio Vabbè, sono le 10 e mezza, basta 5 4 Cioè, secondo tentativo di 5 per finire Ok Oh Terzo tentativo di 5 per finire Niente Che cacchio zio Che cacchio Vabbè Quarto tentativo di 5 Non ce l'ho fatto Vabbè Ok Cosa hai fatto, macchinina? Salta Salta Sì Salta Ripley Oh, mamma Sì Lamina Throw Raffle Va bene come nome Ok Ripley Salta Oh Miser L'accia L'altra Cacchio Oh Mamma Oh Sì Mamma Mia Cacchia Rola Orribile Oh Mio Dio Wow Ce l'ha fatta Non ho capito come Non mi interessa Non mi interessa Oh mio Dio Wow Qui ha preso una dirapata Perché? Non lo so Wow 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 Sì Fine convalida Per favore Sì Salva Sì sì Soprascrivi Pista salvata Ok Ok mi ha salvato quello Allora indietro Quindi Io posso andare adesso in singolo Mia campagna Race Oh No scusami Race Blue No Giungi una mia sfida Ah Sì A No vabbè Nulla Ok però ci posso giocare Va bene Esplora Ma c'è l'angisla Sì ci posso giocare Oh mamma mia Uh È stato un piacere Ah yes Vediamo il mio Il mio replay Per il farone L'ultimo No Com'è che l'ho chiamato Laminar Ah in ordine alfabetico Quindi Laminar flow rough Eccolo Guarda E la puoi modificare Forse mi diverte a modificare A modificarla Oh Oh mio dio Si può fare Sì È fattibilissimo Cioè Non sono neanche Atterrato Perfetto Però Cioè Il problema è Quella curva sulla scultura È orribile È veramente brutta Vabbè Lo posso sempre migliorare Nel frattempo L'ho fatto Sono molto contento Funziona la bolla Qui ha fatto un'eropata Che non ho capito E qua Qua meno male Che ha funzionato Sì C'è un modo Dove forse Riesce a fare Quell'ultima cosa Senza sbattere al muro Ma Non lo farò mai Non credo Di riuscire Non riuscirò a fare mai Perché la curva sulla scultura Non funziona La scultura è la cosa in bianco È veramente brutta Vabbè Funziona E niente Sono contento Basta Lo finiamo così Blocchiamo questo Ciao ciao Ciao